abbiamo visto nel video precedente quali sono le regole principali che io personalmente reputo importanti e necessari per poter creare un proprio portafoglio che sia fatto di soli etf a quelle regole avevo dato solo un contesto e vi avevo anche detto che se eravate poco inclini ad applicare le regole per conto vostro potevate anche andare a optare per soluzioni gestite e abbiamo in quel caso consigliato money farm se aveste optato per quella soluzione ovviamente vi rimando al video precedente per poterlo andare a riguardare e approfondire e anche al link affiliato qui sotto in descrizione ma se invece voleste fare tutto completamente per conto vostro beh in questo caso seguitemi in questo video nel quale vi spiego passo passo tutti i dettagli su come praticamente seguire le regole proposte e i tool proposte nel video precedente per capire come riusciamo a costruire un portafoglio di soli etf per conto nostro però scopriamo tutto solo subito dopo la sigla ciao a tutti e bentornati sul canale io sono pasquale e questo come sempre io risparmio il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto oggi come anticipavo andiamo a vedere tutte le modalità che io personalmente conosca per cui ce ne possono essere altre migliaia per andare a costruire in maniera personalizzata il proprio portafoglio di soli etf vi ricordo che questo video non sarà un contenuto dedicato a fornirvi dei portafogli già pronti ma a darvi delle linee guida per capire cosa faccia al caso vostro tutto questo partendo dalle regole fondamentali che ci siamo dati nel primo video di questa serie e che vi vado qui sotto di nuovo a rielencare e che sono numero uno capire l'obiettivo del proprio portafoglio numero 2 il rischio che si vuole correre o percepire numero 3 l'arco temporale che si vuole utilizzare per il proprio investimento e numero 4 le finalità e le modalità di ribilanciamento del portafoglio come dicevo nel primo video un processo difficile ma fattibilissimo che però non fa per tutti per cui se non volete usare strumenti proprio costruiti come money farm andiamo al pc e cominciamo subito a capire quello che faccio io qui vogliamo andare a creare il nostro portafoglio etf fatto esclusivamente da noi e vogliamo evitare delle soluzioni già preimpostate come ad esempio dicevo prima money farm da dove partiamo partiamo prima di tutto dalle regole che ci siamo date nel primo video che ci siamo dati anche in questo video che ho diciamo detto poco prima di venire qui al pc insieme a voi e per cui partendo da quei presupposti cerchiamo di andare a costruire un portafoglio che faccia bene al caso nostro in questo caso non essendoci voi da questa parte andremo a simulare un investitore di esempio e per cui diciamo che io come persona voglio andare a creare una rendita futura per la mia pensione che non dia dei grossi sbalzi dal punto di vista dei drawdown o comunque della volatilità ma allo stesso tempo che possa darmi un grosso profitto le due cose sono simili per cui cercherò di andare a creare un portafoglio che possa rendere il più possibile in un arco di tempo di almeno 20 anni ma che abbia un drawdown minore rispetto a quello che mi darebbe se io andassi a un 100% azionario come facciamo i modi sono tanti io solitamente se devo creare qualcosa parto da portafoglio visualizer che è un tool molto interessante che permette di fare delle ricerche non solo per asset veri e propri per cui non so mcdonald procter and gamble ma anche per asset veri e propri per cui reit mercato internazionale mercato emergente e così via diciamo che nella mia specifica situazione voglio provare a vedere quale sarebbe la volatilità di un portafoglio composto da diverse asset class voglio mettere in questa asset class il mercato globale il mercato dei reits il mercato dei bond il mercato dei bond corporate e i mercati emergenti per cui semplicemente andiamo in questo tool andiamo a cercarci il nostro simbolo andiamo per asset class in questo caso possiamo andare a selezionare le varie asset class in questo caso io volevo andare prima di tutto a prendere l'international equity per cui un global equity escluso il mercato americano vogliamo mettere per esempio il mercato americano il total stock market poi andiamo a mettere il real estate e questo me lo ricordo mi sembra che si chiami reit è come sono bravo poi andiamo a mettere dei bond governativi in questo caso e solitamente per questi portafogli a lungo periodo ci si mette un po di bond a lungo termine poi volevo andare a mettere dei bond corporate e poi anche un po di mercato emergente in questo modo diversificato fra tante asset class non ho inserito materie prime e per cui quello che vado a fare è in questo caso andare a selezionare a fare delle prove relativamente a quanta porzione di portafoglio voglio andare ad assegnare per ogni singola asset class in questo caso posso andare a fare delle diverse tipologie di tentativi equal weight vuol dire che ogni tipo di asset class ha una porzione uguale nel portafoglio magari in questo caso vogliamo andare un po diversificare dare un po più di peso ad alcune asset class io sto diciamo andando a compilare a caso sinceramente qui e poi magari in quest'ultimo caso andiamo a essere un po più spregiudicati sotto alcune asset class ovviamente questo non ha senso nel senso che ognuno di noi deve andare a vedere quelli che sono i propri obiettivi di investimento andiamo ad analizzare il portafoglio il benchmark serve solo per vedere rispetto al benchmark quali sono le performance a noi non interessa qui andiamo a dire che andiamo ad aggiungere una somma fissa all'inizio senza nessun tipo di aggiunte diciamo dal punto di vista mensile annuale e andiamo a ribilanciare annualmente sono passaggi diciamo che in questo caso non ci servono più di tanto perché vogliamo semplicemente andare a vedere quali che sono i drawdown e i possibili rendimenti del portafoglio ma se proprio vogliamo essere pignoli aggiungiamo lo spy così andiamo a valutare i nostri tre portafogli in base al nostro benchmark di riferimento allo standard pool 500 quindi abbiamo qui anche le nostre divisioni di asset class quello che sarebbe il nostro rendimento rispetto allo standard pool 500 quello che sarebbe anche la standard deviation il massimo drawdown lo sharp ratio il sortino ratio e così via in questo caso va a partire il portafoglio dal 2003 ho dovuto correggere qui il ticker perché aveva aggiunto una diversa tipologia era un'azienda vera e propria qui invece a me interessava l'asset class e poi andiamo a vedere che rispetto a tutto quello che è il mercato totale il massimo drawdown di questi asset class sono diverse il rendimento sono simili rispetto allo standard pool 500 ma con dei drawdown diversi ovviamente se vogliamo andare a abbassare il drawdown ma in quel caso anche ad abbassare il nostro rendimento possiamo andare a variare le percentuali qui per capire quale portafoglio si possa andare ad adattare più a noi una seconda alternativa è quello di partire da portafogli già pre costruiti e qui utilizziamo un altro sito che si chiama portafoglio charts in questo caso ci vengono presentati dei portafogli professionali già costruiti tra i quali vediamo lo season il classico 60 e 40 il global market portfolio il coffee house portfolio il golden butterfly portfolio e qui possiamo andare a studiare di volta in volta le varie tipologie di etf per cui di asset class che vanno a comporre questo portafoglio partiamo da quello più conosciuto che lo season direi dalio che è un asset allocation ben definita con il 30 per cento del total stock market ovviamente si va a riferire al mercato americano il 40 per cento il long term bonds il 15 per cento in intermediate bonds il 7,1 in commodities e il 7,1 in oro e qui viene fatta anche per i vari portafogli una certa tipologia di illustrazione di quello che il portafoglio di chi è chi l'ha creato e semplicemente possiamo andare a vedere quelle che sono le performance di questo portafoglio come viene creato con questa chart è molto anche semplice da andare a capire perché ci viene indicato questa specie di foglio dove sono andate a collocare le asset class ci viene detto anche qual è il rendimento medio quali sono i rendimenti annuali anche facendo back test per cui qui parte dal 1970 fino al presente quale sarebbe un investimento di 10 anni magari possiamo anche mettere 20 visto che noi vogliamo vedere in 20 anni quale sarebbe il rendimento qui abbiamo il minimo che potrebbe rendere il portafoglio il massimo e la media appunto di quello che il rendimento potrebbe essere un tool molto interessante qui ci sono anche diversificati i vari ritorni per anno questo non ci serve solo per creare il nostro portafoglio ma ci serve anche per capire quale potrebbe essere il nostro rendimento il nostro down nel portafoglio se andassimo ad applicare questa strategia qui per esempio ci viene detto che il minimo raggiunto da questo portafoglio è stato di un 16 per cento ma poi diciamo che sulla media annuale è molto meno volatile si ferma intorno al 6 per cento se non ricordo male con un rendimento annualizzato che è del circa 6 e mezzo per cento su base anno ovviamente questo non è l'unico modo perché ognuno di noi potrebbe andare qui su portafoglio charts e andare a costruirsi il proprio portafoglio andando a selezionare qui build your own portafoglio e andare a selezionare le varie asset class andando ad aggiungere in termini percentuali quello che vogliamo aggiungere la stessa cosa che abbiamo fatto qui nel portafoglio visualizer ma ovviamente qui abbiamo anche una diversificazione un po più schematica e ci permette di approcciare la cosa in maniera un po più semplice rispetto a portafoglio visualizer che però dà molte più informazioni perché qui possiamo trovare i ritorni per ogni anno i ritorni per ogni mese idro down per ogni mese la diversificazione degli asset in base ai rendimenti su base annuale e l'esposizione di volta in volta del portafoglio in base a quello che era il percuotersi delle dinamiche economiche in quel momento se vogliamo avere dell'idea di costruire un portafoglio di etf invece di andare appunto su portafoglio chart abbiamo un altro tool che si chiama lazy portafoglio che può essere utilizzato per capire un portafoglio che sia orientato a un etf o più di un etf e qui ce ne sono tantissimi già precostruiti così come in portafoglio charts quali sono i rendimenti sui 25 anni sui 10 sui 5 anni e sull'anno quali sono anche i massimi drawdown nello stesso arco temporale il dischio correlato e quello che è il dividend yield e i ritorni su base annualizzata ad esempio se vogliamo andare a analizzare un portafoglio con dei down molto bassi su lungo periodo ovviamente non andremo solo su short term treasury altrimenti non andremo a guadagnare niente però se volessimo andare su un all country 20 80 o qualcosa un po' più particolare come il desert portafoglio vediamo non so neanche come sia fatto qui per esempio possiamo andare a vedere quello che l'asset allocation in etf in questo portafoglio 30% sono stocks e qui praticamente indica us large cap 60% sono i fixed income e qui sono i bond intermediate a medio termine e 10% invece è commodities e in particolare in questo caso il 10% è oro qui vengono indicati anche su base americana quelli che sono gli etf che vanno a comporre questo portafoglio ovviamente poi bisogna andare a cercare degli etf europei che vadano a coprire questi asset class ovviamente se si va a parlare di vti si può tranquillamente prendere un etf che va a seguire lo standard pure 500 perché il vti aggiunge solo il russell 2000 all'interno di tutto quello che è lo standard pure 500 ovviamente aumenta leggermente la diversificazione delle aziende ma in linea di massima in america le large cap sono quelle che un po vanno a tirare il mercato per andare a cercare gli etf su base europea abbiamo etf replay e anche qui possiamo andare a cercare tramite simbolo o comunque tramite una mascherina che compare qui cliccando ad esempio se vogliamo andare a cercare qualcosa sugli emerging market i primari qui ci vengono dati quelli che sono gli strumenti attualmente presenti sul mercato europeo per esempio un global sector in industry ognuno poi va a fare le proprie scelte va a studiarsi i vari ritorni se per esempio andiamo a prendere un all country world in questo caso mettiamo un 30 per cento o vogliamo mettere qualcosa sempre sui riti io ve li metto sempre perché sono il mio amore vediamo i share global rate per esempio questo qui possiamo mettere un 20 per cento poi possiamo mettere un qualcosa sull'oro sulle materie prime o sulle materie prime diversificate per cui andiamo sulle commodities broad base commodities vediamo un attimo questo qui mettiamo un 10 per cento e poi mettiamo anche magari un qualcosa relativo ai bond mettiamo lì corporate così a noi ci piace rischiare un po di più siamo arrivati a quanto 50 60 mettiamo questi qui per esempio 15 e poi mettiamo degli emerging market quanto siamo qui 50 60 75 emerging market mettiamo questo qui per esempio giusto ci sono tutti 30 60 80 90 no siamo allora 35 e 25 e andiamo a fare un back testing per esempio negli ultimi tre anni e possiamo andare a vedere che il benchmark qui che l'all country all world 60 40 possiamo andare anche a cambiare il benchmark qui per esempio mettiamo lo spy ovviamente come dicevo prima non ci interessa capire qui se battiamo il mercato no perché bisogna andare a vedere se si va ad adeguare alla nostra strategia qui per esempio noi a vedere che performerebbe molto meno del mercato ma avrebbe una volatilità implicita molto minore e qui andiamo a vedere tutto quello che sono le correlazioni con lo spy il massimo drawdown che praticamente è molto simile e il ritorno totale su base anna però noi ci dovremmo chiedere a questo punto qual è la possibilità di capire quale asset class rendono in particolari periodi e comunque nel lungo periodo in questo caso vi faccio vedere quest'altro link che si chiama annual asset class returns e vi fa vedere su base annua ogni singolo asset class quanto è andata a rendere in quello specifico anno inoltre viene anche messo qui un asset class che si chiama aa che sarebbe chiamata qui asset allocation portfolio qui lo spiega sono 15% large cap stocks 15% international stocks 10% small cap stocks 10% emerging market 10% rit e 40% high grade bonds ovviamente qui poi abbiamo il totale sul lungo periodo come si vede le large cap americane dal 2007 ad oggi hanno reso quasi un 357% le small cap quasi un 250% i rit quasi un 195% per cui teoricamente uno che punta a lunghissimo periodo potrebbe anche dire a me piace l'immobiliare metto 100% in rit diversificato a livello mondiale e comunque ho un ottimo rendimento ovviamente non è un discorso che farei neanche io oppure avendo i rit ma sul lungo termine si potrebbe anche fare e poi così via tutto il resto in base a questa tipologia di rendimenti sulle aste a sulle asset class una persona potrebbe andarsi a regolare un investitore consapevole potrebbe andare a capire quale asset class andrebbe avrebbe piacere di inserire nel proprio portafoglio a quel punto scegliere gli etf che vanno a replicare quelle asset class e poi inserirle in un back test per esempio di etf replay che per noi è diciamo il must a livello europeo o comunque andare su un qualsiasi sito come just etf andare a prendere gli isin o i ticker dei vari etf andare a creare il proprio portafoglio e magari andare a fare un back testing nel lungo termine soprattutto nel passato per vedere come questa asset class miste questi portafogli creati possono andare a rendere in termini di appunto di rendimenti di cagre del rendimento annuale su base annua e anche di drawdown e di correlazione col mercato totale americano che è un po quello che è il benchmark di riferimento lo sta nelle pur 500 bene non voglio annoiarvi più di tanto perché ovviamente questi sono discorsi che vanno approfonditi tantissimo e non credo che sia un discorso come dicevo prima che tutti possano fare ovviamente è molto più affascinante ma allo stesso tempo ha bisogno di molto più tempo di lavorazione se voi avete tempo e voglia di imparare questo secondo me è un ottimo metodo per entrare all'interno di tutto quello che è il mondo delle asset class e a quel punto di andare a costruire un proprio portafoglio di etf per conto vostro se invece non voleste spendere tutto questo tempo perché magari vi affascina il discorso ma non avete tempo come ho detto tante volte un portafoglio o più di un portafoglio su un provider come ad esempio money farm che vi lascio come sempre il link affiliato qui sotto in descrizione potrebbe essere la nostra soluzione bene adesso ritorniamo alla mia brutta faccia e andiamo a fare le conclusioni finali bene spero che questo contenuto sia stato il tuo gradimento se così fosse ti chiedo come sempre la cortesia di un bel pollice in su per l'algoritmo di youtube ma anche per me perché mi fai capire che il mio lavoro ti fa piacere e soprattutto un commento per farmi capire cosa ne pensi e costruire una nostra conversazione ti ricordo che se tu volessi optare per l'opzione money farm ti lascio qui sotto il link affiliato in descrizione una cosa che a te non costa nulla ma permette a me di andare a sostenere il canale nella sezione dei commenti lasciami anche spunti di riflessioni non solo per me ma che sono soprattutto per la community per andare a condividere idee nuove consigli nuovi magari cose che io non sapevo e che tu sai e che possono essere utili a tutti noi se poi sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessun contenuto successivo ti chiedo come sempre di iscriverti al canale cliccando anche la campanella delle notifiche così che tu non possa perderti nessuna pubblicazione successiva anche oggi venerdì ultimo video della settimana e ci salutiamo per un buon weekend e ci vediamo lunedì prossimo con buonanotte mercati ciao 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 ciao